Anci Lombardia ha rinnovato i propri vertici associativi, Mauro Guerra, ex deputato e sindaco di Tremezzina, piccolo comune in provincia di Como, è stato eletto nuovo presidente. Ecco i suoi primi impegni. Due grandi questioni strategiche, la battaglia a livello nazionale per riconquistare autonomia ordinamentale, finanziaria e organizzativa ai comuni e l'ha l'impegno e il lavoro con Regione Lombardia sul tema dell'autonomia differenziata della Regione nella quale vogliamo che i comuni abbiano riconosciuto un ruolo importante e che si proceda a un vero e proprio riordino istituzionale territoriale. Al congresso è stato illustrato il bilancio di mandato, un agile report sulle attività di Anci Lombardia dal 2014 al 2019. Uno strumento molto utile, come spiega il presidente uscente. Ogni anno facevamo già un rapporto ai nostri associati, tenete conto che oltre 1.300 comuni con oltre il 90% della popolazione rappresentate implica di non dare per scontato che anche i nostri soci sappiano con dovizia di particolari ciò che in qualche modo Anci fa, i numeri, la qualità, ciò che avviene. Quello poi finale di mandato dà un senso di un percorso, di una prospettiva assolutamente importante. Un percorso che parte da lontano, cominciato dall'ex presidente di Anci e attuale governatore Lombardo, Attilio Fontana, e proseguito con Roberto Scanagatti, già sindaco di Monza, e presidente dell'associazione dal 2014 al 2017. Credo che sia fondamentale, credo che si debba sottolineare l'importanza che oltre al vero bilancio si faccia riferimento a questa particolarità di valutazione dell'attività svolta che è fondamentale, che dimostra la grande disponibilità dei sindaci, l'impegno che ci mettono, credo che sia la prova della positività dell'attività delle amministrazioni comunali. Un lavoro rigoroso che riporta gli effetti prodotti dall'associazione. Per chi ha lavorato Anci e che cosa è cambiato? E troveremo che Anci ha lavorato certo per i suoi comuni, ma anche per i cittadini, per le imprese, per i disabili, per i giovani, per le aree colpite dal terremoto. E quindi una complessità di azione che è fondamentale conoscere e capire. Quindi questi strumenti danno delle chiavi di senso, di lettura, per riuscire a partecipare attivamente come soci, ma anche come soggetti della comunità e del sistema di Anci, a migliorare la capacità di realizzare la sua missione e quindi la qualità della vita dei territori e dei cittadini. Effetti positivi quelli prodotti da Anci Lombardia in molti ambiti, a cominciare dal contributo al nazionale sulla finanza locale. Anci Lombardia ha lavorato molto in questi mesi, ha lavorato molto a tenere insieme i comuni e ha dato una mano al Lanci nazionale a seguire alcune attività, in particolare la finanza, da alcuni assessori come l'assessore di Milano che ci ha aiutato a costruire una proposta, una piattaforma da fare al governo, a Mauro Guerra che oggi diventa presidente del Lanci e ha contribuito in questi anni sia da sindaco sia da parlamentare ad aiutare i comuni nella trattativa costante che arriva soprattutto a fine anno quando si definisce la manovra di Milano. Un lavoro prezioso a beneficio dei grandi e dei piccoli comuni. Devo dire che Anci Lombardia in questo periodo ha lavorato benissimo, per cui sono certo che il nuovo presidente continuerà in questa strada perché le sfide che ci attendono sono veramente sfide importanti. con nuovi servizi a disposizione degli amministratori locali. Ma è una svolta che abbiamo voluto dare già da un po' di tempo, quella di poter dare oltre alla rappresentanza dei nostri comuni, dei servizi perché è questo che ci chiedono i nostri amministratori, quindi sempre di più progetti che poi hanno un'utilità pratica nei comuni. Mettersi insieme, lavorare insieme in forma convenzionale, in queste forme che abbiamo descritto e su cui stiamo lavorando, significa non distinguere territori tra territori di serie A e territori di serie B, ma cercare di dare a tutti un principio di adeguatezza in ogni territorio dove si vuole vivere nella nostra bellissima Lombardia. Sostenendo anche le nuove generazioni. Sicuramente il ruolo di Ancia, supporto dei sindaci, dei giovani amministratori e degli amministratori in generale è fondamentale, deve essere fondamentale da qui ai prossimi anni perché le sfide che ci attendono in modo particolare anche per i piccoli comuni sono veramente molte, sono notevoli. Un'associazione in salute che a molti amministratori ha dato ed ha modo di mettere a disposizione di tutti i sindaci capacità, tempo e passione. Un'esperienza di condivisione, condivisione di intenti, di obiettivi, di tanto lavoro. Per poi fare una sintesi, sintesi che è il miglior risultato possibile per quel momento. Così abbiamo voluto affrontare i vari argomenti, le varie tematiche della vita dei comuni. Credo quindi che questa sia stata un'esperienza che consiglierei a tutti i consiglieri comunali, sindaci, assessori per fare il bene delle nostre comunità. Grazie a tutti.